Focaccia di zucchine ripiena di prosciutto e formaggio, perfetta per la pausa pranzo. Grattugio le zucchine in una ciotola e unisco farina, sale e pepe. Impasto fino ad ottenere un composto omogeneo. Se necessario, aggiungo un goccio d'acqua. Scaldo la pentola e trasferisco metà dell'impasto che farcisco con prosciutto e formaggio. Ricopro con l'impasto rimanente, sigillando bene i bordi. Cuocio 10-15 minuti per lato.